Torna Pescara Sposi, sesta edizione alla Marina di Pescara, Presidente Becci, un appuntamento che ormai è diventato un punto fisso per tutte le persone interessate, tutti quelli che decidono di compiere il grande passo. Sì, assolutamente, anche perché i numeri ci stanno dando ragione, quest'anno addirittura ci avviciniamo ai 100 espositori, c'è stato un riconoscimento nazionale di questa bella manifestazione, sarà una manifestazione che interesserà più regioni. Il dato estremamente positivo è che l'80% degli espositori che erano presenti l'anno scorso ci saranno quest'anno e che vuol dire che chi viene, chi investe in questa manifestazione, in questa fiera, ha un riscontro perché altrimenti non si spiegherebbe. Quest'anno in particolare avremo una serie di iniziative che riguardano sempre presentazioni di modelli di gioielli, il grande maestro Italo Lupo, Presidente regionale della CNA, presenterà la sua nuova collezione. Per cui siamo soddisfatti dell'organizzazione e soprattutto del fatto che oltre mille giovani coppie si sono iscritte e verranno presso gli stand a cercare quelli che saranno i gioielli, gli abiti, il ristorante, l'albergo. Ecco, siamo soddisfatti.